27 febbraio de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca. Di Vamba. 27 febbraio. L'orizzonte si rannuvola. Oggi il babbo mi ha fatto una predica ad un'ora, dicendomene di tutti i colori e terminando con la solita conclusione, che io son destinato a essere la rovina della famiglia. E tutto questo perché, a quanto pare, l'avvocato Maralli gli ha detto che era stato diseredato dal suo zio per colpa mia. Ma, anche se questo fosse vero, dico io, è giusta mi si debbano dare ora le sgridate per una colpa passata, della quale ho già scontata la pena in collegio? Sempre così, sempre ingiustizie e prepotenze. Io sono stato a sentire sempre zitto, e dopo la predica sono uscito con una scusa e sono andato al negozio Balestra, dove ho mangiato dodici paste tutte svariate per rifarmi la bocca. Uscendo, ho incontrato Gigino Balestra, al quale ho raccontato della sgridata avuta, ed egli mi ha detto tutto meravigliato. Ma se l'avvocato Maralli, anzi, dice che è stato lui che ha consigliato suo zio a lasciar tutto ai poveri. Come? Vieni con me a casa mia e vedrai. Siamo andati, infatti, a casa sua, e lì Gigino mi ha fatto vedere l'ultimo numero del sole dell'avvenire dove ha un articolo intitolato Il nostro candidato contro il privilegio dell'eredità. Ricopio qui il principio dell'articolo dal giornale che mi ha regalato Gigino, perché è bene che in queste pagine di un giornale scritto da un bambino si veda con quale sincerità siano scritti i giornali dei grandi. A costo di parere indiscreti al nostro egregio amico avvocato Maralli, e sicurissimi delle proteste che gli inspirerà la sua naturale modestia, noi non possiamo assolutamente tacere di un nobilissimo fatto che torna a suo onore e che è prova novella della coerenza che egli segue sempre in tutti gli atti della vita verso i suoi principi. Il nostro candidato dunque, con la generosità che è una delle prime virtù dell'animo suo, aveva ospitato un suo zio molto malato e molto ricco, straordinariamente ricco, del quale egli sarebbe stato il naturale erede, se il nostro valoroso compagno non fosse fedele seguace dei nostri principi contro ogni privilegio capitalistico, primo dei quali il diritto di eredità. Egli dunque, in ossequio al programma del nostro partito, non solo nulla fece di quel che avrebbe fatto qualunque borghese per persuadere il ricco zio di farlo erede dell'autopatrimonio, ma con la predicazione sincera delle proprie idee lo convinse a nominare eredi i poveri della città, i quali oggi appunto, in cui avverrà la distribuzione dell'ascito al nostro municipio, avranno un aiuto alla loro grama esistenza. E qui l'articolo era tutto un attacco contro il candidato avversario che era chiamato egoista, sfruttatore, eccetera, mentre si esaltava il disinteresse del mio cognato. Io, quando ho letto quest'articolo, sono cascato dalle nuvole, poiché ben sapevo come erano andate le cose riguardo all'eredità del povero signor Venanzio, e sapendo che il giornale era fatto dal babbo di Gigino, gli ho detto Ma come? Ma qui il tuo babbo ha sbagliato. Quando lo vedrà il Maralli, quest'articolo, starete freschi. Che dice? Ma il Maralli l'ha visto e come? L'ha visto. Non solo l'ha visto, ma prima hanno discusso a lungo, lui e il babbo, se conveniva di farlo, E da ultimo hanno deciso di sì, perché, come ha detto il Maralli, il suo zio nel testamento stesso dichiara che lascia eredi i poveri in ossequio alle idee del nipote, e sebbene abbia scritto questo per canzonarlo, da chi non conosce come stanno le cose può essere preso benissimo sul serio. Almeno, ha detto il tuo cognato, avrò avuto un utile morale. Sicché ha approvato tutto. Ha approvato, altro che, anzi, il principio dell'articolo lo ha scritto il Maralli stesso. Io sono rimasto di stucco, ma Gigino Balestra, che è più infarinato di me di cose elettorali, mi ha detto. Ti fa meraviglia? Non è nulla ancora. Ora, vedi, incomincia la polemica con l'Unione Nazionale, e sentissi che cosa non si dicono, ma il babbo, mentre gliene scrive di quelle da levare il pelo, ci ride e ci si diverte. Se il mio babbo non facesse il pasticcere, sarebbe un giornalista di prim'ordine, lo dicono tutti, ma lui dice gli rendono più i pasticci con la crema che quelli scritti. E come andrà a finire l'elezione? Eh, il Maralli ha tutte le probabilità di riuscire, perché c'è l'Unione dei partiti popolari. Meno male. Bisogna che dica la verità. Io avrei piacere che il mio cognato fosse eletto deputato. Perché? Non lo so neppur io, precisamente, ma mi pare che avere un deputato in famiglia sia una cosa utile, è da averci delle soddisfazioni. E ho in idea che se il Maralli riuscisse, mi perdonerebbe. E allora mi piacerebbe molto ad andare con lui nei comizi elettorali dove tutti urlano, anche i ragazzi, senza che nessuno li sgridi. Anzi, mi ha detto Gigino, più che si urla e più ci hanno piacere. Se vuoi venire domenica si va a Collinella, dove c'è una gran fabbrica con di molti operai. E lì il babbo vuole che si gridi. Evviva la Lega! Ci andrei volentieri, ma non so se il babbo mi ci manderà. Vedremo. Fine del 27 febbraio